Avevo fatto un video sul Covid, anzi ne avevo fatto più di uno, ma uno intorno al 20 di febbraio mi sembra, nel quale mi azzardavo a dire che il modello più probabile, insomma, a cui far riferimento per capire un po' quale poteva essere anche l'evoluzione del Covid, era comunque la spagnola del 1918, anche se erano passati cent'anni e anche se le condizioni adesso sono assolutamente diverse di allora. Però, insomma, questa è la malattia la cui evoluzione forse, secondo me, era più facilmente confrontabile o poteva servire da modello, almeno teorico, insomma, per capire quale poteva essere l'andamento del Covid. E anche per capire un po' le differenze tra il Covid e una influenza banale, ci sono dei grafici che sono visibili su Wikipedia per quello che riguarda l'influenza del 1918. In questo grafico, per esempio, voi vedete che l'acme dell'influenza, insomma, il momento in cui i morti sono stati maggiori, è cominciato alla fine di settembre. Qui sono riportati, è riportata la curva relativa all'andamento della malattia a New York, Londra, Parigi, Berlino. E vedete come, insomma, l'acme si è partito circa nella terza decade di settembre del 1918 e si è durato fino alla fine di novembre del 1918. Quindi ottobre e novembre, due mesi, insomma, è durata la curva pandemica. Diciamo la seconda ondata, perché la prima è stata abbastanza prima, cioè è stata verso la fine di giugno. Ed è stata relativamente molto piccola rispetto alla seconda ondata, che è stato poi la gran parte degli oltre 50 milioni di morti di allora. Poi c'è stata anche una terza ondata, ma diciamo così è più trascurabile. In questa curva sono rappresentati i decessi di allora e, diciamo, la percentuale di decessi a ogni mille persone. Poi vedete che nella prima ondata i decessi sono stati relativamente pochi, cioè la mortalità è stata intorno al 5 per mille. Nella seconda ondata, invece, la mortalità della spagnola ha sfiorato il 25 per mille. Nella terza ondata è salita oltre 10 per mille. La spagnola è stata una malattia che è stata mortale, insomma, non è stata una semplice influenza. Per me non è una semplice influenza il Covid e se voi andate a vedere poi, insomma, le informazioni che riguardano la spagnola, troverete che ci sono molte analogie, per esempio la reazione citochinica, insomma. L'altra curva interessante da vedere è questa, curva che mostra come negli anni precedenti, fino al 17, insomma, c'era sì una mortalità legata all'influenza, che è questa che noi vediamo tratteggiata. E era una mortalità che era soprattutto, riguardava soprattutto l'età molto giovane, ma allora si moriva molto piccoli, no? Insomma, c'era ancora una grossa mortalità infantile. E poi c'era una mortalità che riguardava, diciamo, le complicanze nei percenti molto anziani, insomma, nelle persone anziane, diciamo, oltre i 70 anni, dai 65 cominciava a salire, poi in maniera esponenziale, insomma, e quindi, insomma, come causa anche terminale di morte. La differenza grossa si vede, invece, per quello che riguarda le età mediane della vita, insomma, no? Voi vedete come, diciamo, l'influenza normale colpiva molto poco, o terminava una scarsa mortalità nell'età centrale della vita, come, invece, la spagnola ha colpito e è stata grave perché ha dato una grande mortalità, soprattutto nelle età centrali della vita. Quindi, insomma, questo ci fa capire come la spagnola allora e come il Covid adesso, che ha le caratteristiche, diciamo, della spagnola di allora, almeno certe caratteristiche della spagnola di allora, come siano due entità patologiche diverse, insomma. E questo ci fa anche capire perché, per esempio, adesso si muoia di Covid non solo per le complicanze, diciamo, perché accelera le complicanze, causa terminale di morte in pazienti già gravemente compromessi anziani, ma riguardi anche, o possa riguardare anche, pazienti giovani, come l'età mediana si sia spostata in questa seconda ondata verso un'età più centrale della vita, verso i 40-50 anni, non più al di sopra dei 70 anni, che so io. Queste curve mostrano abbastanza bene quale sia la differenza tra la spagnola e il Covid e una banale influenza. Come tutto sommato, anche a posteriori, come abbiamo visto in questa curva, la seconda ondata del Covid adesso stia avvenendo in tutta Europa, non tanto nel mondo, perché nel mondo magari non è ancora finita la prima, insomma, negli Stati Uniti siamo ancora nella prima ondata. Pensiamo, ragioniamo per l'Europa. In Europa stia avvenendo, in maniera molto marcata, una seconda ondata che ha certe caratteristiche, ma soprattutto anche delle coincidenze, le chiamo coincidenze temporali, con quella che è stata la seconda ondata della spagnola. Insomma, comincia soprattutto verso la fine di settembre e i primi di ottobre. E sale, sale in maniera esponenziale, come sta salendo adesso in tutta Europa. Ovviamente le differenze saranno legate anche al modo di trattarla, alle cose che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, a tanti fattori, ma c'è una coincidenza temporale e anche di intervallo intercorso tra la prima ondata del Covid e la seconda ondata della spagnola. E questa coincidenza temporale, secondo me, fa riflettere, insomma, no? L'estate è stato libero anche allora, abbastanza, la curva era piatta. E poi, insomma, ottobre-novembre sono state molto interessate dalla seconda ondata. E in questi due mesi, al tempo della spagnola, quindi nel 18, la mortalità è stata molto elevata, oltre, dicono, 50 milioni di morti nel mondo. Il mondo allora era popolato in maniera diversa rispetto a oggi, insomma. C'erano due miliardi di abitanti, adesso ne abbiamo quasi otto. Insomma, tanti fattori, tante cose. Non c'erano antibiotici, non c'erano altri farmaci, non c'erano gli antivirali. Ma, insomma, questo andamento temporale, una cosa che fa riflettere è come ragioneremmo di fronte a un fenomeno, se lo potessimo vedere soltanto dal punto di vista medico, e come invece stiamo ragionando tenendo conto che un fenomeno è sì di competenza medica, ma che poi influisce in tanti aspetti della vita. Se noi avessimo, per esempio, un malato di gancrena, pensiamo di salvargli la vita, non avremmo dubbi a amputargli, in questo caso, come vedete nella foto, non avremmo dubbi ad amputargli la gamba, cioè ad amputargli un arto malato per salvare l'organismo, se riusciamo a salvare l'organismo. Il medico non deve essere, non può essere troppo pietoso. Se corriamo dietro alla gangrena e amputiamo sempre al di sotto di dove la gangrena morde, rischiamo di perdere il malato. Quindi una considerazione un po' generale è quella che bisogna avere il coraggio di amputare l'arto malato, o perlomeno di prendere quei provvedimenti che permettono di escludere l'arto malato in modo tale che non infetti tutto l'organismo. il malato ci dirà sì ma io dopo non ho più la gamba, come vivo senza la gamba in questo caso. Si tratta comunque di considerare se vale di più la vita o se vale di più la gamba, se si può vivere anche senza una gamba, cioè se si può riorganizzare la propria vita tenendo conto che poi non si hanno più le gambe o non si ha più una gamba o non si ha più un braccio, insomma, che il corpo resti mutilato, oppure se bisogna perdere poi l'intero organismo per non aver amputato la gamba malata. L'altro ragionamento che si può fare dal punto di vista medico, per esempio, così più generale, insomma, dove stare al di sopra un po'. Prendiamo per esempio un operaio che lavorava su un'azienda produttrice di diamianto o di materiale diamianto e che poi sviluppi il mesotelioma, il tumore polmonare. Noi vediamo un malato che si sta ammalando, che rischia di ammalarsi, sappiamo che l'amianto gli fa male e che l'amianto lo condurrà ad avere un tumore polmonare, magari non subito, ma, come sapete, i mesoteliomi magari si sviluppano anche dieci anni dopo l'esposizione all'amianto. Cosa facciamo? Lo rimandiamo, questo malato, a lavorare nella fabbrica di amianto? Chiaro che, insomma, si cercherà di togliere tutte quelle, tutti quei prodotti che contengono amianto, di toglierli anche dalla circolazione, non solo di non farli più, di non fabbricarli più, ma anche di eliminarli dal commercio. Si cercherà in qualche modo di smaltirli, pur pagando dei costi importanti. Diciamo due elementi. Bisogna avere coraggio di tagliare l'arto o gli arti, insomma, o quello che è in gangrena, o quello che produce malattia, quello che tende a contagiare l'intero organismo e poi bisogna cercare di eliminare l'esposizione di questo organismo a quelle cose che sicuramente fanno male, che sono risultate patogene. Se non si riesce a fare questo, certo, il prezzo lo si dovrà pagare e il prezzo lo pagherà l'intero organismo. Applicato al Covid, è chiaro che correre dietro alla malattia è sempre un po' difficile, insomma, no? Si rischia sempre di arrivare a scalare sempre di più una montagna che si fa sempre più grande e soprattutto poi si rischia di perdere il controllo. Però, come ci dicono tutti, insomma, è chiaro che si tratta poi di tenere in conto, di giocare tra l'economia e tra la salute, insomma, no? Allora, il pubblico pensiero dice che, vabbè, insomma, se devo morire, preferisco morire di malattia che non di fame. E questo è un pensiero che comunque circola, no? Cosa facciamo? Dobbiamo tagliare tutto, chiuderci in casa, chissà persa quanto tempo, fallire dal punto di vista economico, ma in questo momento la malattia sta colpendo il mondo intero, per cui siamo tutti in questa situazione, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, ma tutti stiamo entrando in questo clima. Oppure, insomma, mandiamo avanti tutto come sta, facendo finta che la malattia non esista. Quindi facciamo finta che l'amianto non dia tumori e continuiamo a mandare avanti la fabbrica di amianto, perché senza quella non viviamo. Ci sono altri casi in cui ci viene un altro messaggio, ed è questo. Ho rispettato tutte le regole che mi sono state date, però mi sono ammalato lo stesso. E quindi è probabile che non conosciamo abbastanza il virus in questo caso, oppure queste regole sono insufficienti, non tengono conto di tutte le situazioni possibili, e forse non possono neanche tener conto di tutte le situazioni possibili che una persona incontra poi nella sua vita, no? Perché magari basta un attimo di disattenzione, anche quando ho rispettato tutte le regole, per arrivare ad essere contagiato. Quindi non possiamo fidarsi assolutamente neanche delle regole che ci vengono date, anche se sono importanti. Un'altra cosa che percepisco è quella che c'è un bisogno che passi la nottata per poi ritornare ad essere tutti come prima e anzi a produrre più di prima per recuperare il tempo perduto. Lascio perdere le cose che non sono state fatte, che magari si sapeva e potrebbero essere state fatte, di cui si sta discutendo, si discute in televisione, ma insomma... E comunque questa idea c'è stata subito dopo la prima ondata, dire aspettiamo che passi, cerchiamo di recuperare il tempo perduto. Non aspettiamo altro che il vaccino o gli anticorpi monoclonari o che so io per poi rimettersi a produrre a pieno ritmo, a riprendere, a riprendere e a mandare avanti il mondo di prima con gli stessi criteri di prima. Ecco, secondo me questo non sarà più possibile e questa è la cosa che avrebbe dovuto farci capire e che dovrebbe farci capire questa malattia. È una visaglia importante che qualcosa come la globalizzazione in realtà sia funzionato per certi versi a molti punti critici, no? La globalizzazione è anche la globalizzazione che stiamo vedendo di una malattia infettiva, insomma, che nasce e che nasce strettamente correlata con un mondo che sta cambiando, soprattutto con un mondo che sta essendo alterato alle radici. Quello che dobbiamo capire di questa malattia è che forse il primo sintomo si avvisa di una possibile catastrofe, una catastrofe che coinvolge l'intero pianeta, l'intero ecosistema, insomma, causata evidentemente dagli interventi umani, insomma, nell'ambiente naturale. A questo ormai ci stanno arrivando tutti, no? Invece della catastrofe, come diceva un libro di Giulietto Chiesa, cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare per evitare qualcosa che ci potrebbe coinvolgere tutti a distanza di non tantissimi anni? L'intero globo. Cosa dobbiamo mettere al centro? Dobbiamo mettere al centro la vita o dobbiamo mettere al centro l'economia, lo sviluppo, la crescita a tutti i costi? Il Covid, secondo me, è un segnale, è un primo avviso di quello che ci potrebbe aspettare anche nei prossimi anni, negli anni a venire. E questo segnale dipende da come lo interpretiamo. Lo interpretiamo per, diciamo, per superare questa fase e poi per riprendere tutto come pezzo di prima, anche per recuperare il tempo perduto, e quindi ci rimettiamo nel mostro dello sviluppo a tutti i costi? Oppure, diciamo, cerchiamo di superare questa cosa, poi ne approfittiamo di questo segnale per tagliare le cose che non vanno, per cambiare le cose che non vanno, per, appunto, per rimettere al centro la vita e non l'economia. Quindi per cercare di trovare dei modelli di sviluppo che siano diversi da quelli attuali. E per far questo bisogna avere il coraggio di tagliare. Tagliare quei settori che sono, diciamo, che sono pericolosi, che sono inutili, che sono dannosi per l'ambiente, per esempio. Uno di questi lo vedono nel turismo. Il turismo è tutto quello che è collegato al turismo. Ma poi ce ne sono anche molti altri. Ma il turismo vuol dire grandi navi, vuol dire navi, vuol dire aeroplani, vuol dire alberghi, vuol dire un sacco di cose, insomma. No, è un 10% del PIL mondiale, da quello che mi è sembrato di capire. E' cambiare modello di sviluppo. Ritornare a una vita più sobria. Cambiare impostazione anche dello Stato. Ridistribuire in maniera diversa la ricchezza. Sono tutte cose molto teoriche, lo capisco. Il problema che si porrà è quello di sopravvivere o meno, insomma, di avere una terra che ancora si ospiti o no. Anche perché ormai, se nel 600 anni fa c'erano 2 miliardi di abitanti nel mondo, adesso cominciamo ad arrivare a 8 miliardi e diciamo che il pianeta non ha spazio per ospitare ancora tanti altri miliardi. Tenendo conto che siamo arrivati da 2-8 miliardi nel giro di 100 anni, che è un periodo molto breve, no? Allora, c'è un problema anche demografico. C'è un problema di inquinamento, di surriscaldamento globale. Sono tanti problemi che stanno per scoppiare. Da questi si può uscire soltanto ritrovando, come dire, un altro modo di vita. Cioè ripensando a una vita che sia più sobria. Pensando che lo Stato deve poter riprendere, per esempio, il controllo di molte produzioni e ripensando anche all'impatto inquinante di molte produzioni. Per esempio, la carta, i libri, eccetera. In questa epoca in cui è possibile sostituire la carta con prodotti digitali, perché non farlo? Perché lo Stato non si appropria, non crea le grandi piattaforme di distribuzione, di vendita, invece di lasciarli ai privati? Perché lo Stato non si riappropria della grande distribuzione o della distribuzione dei generi alimentari o dei prodotti di necessità e invece di lasciarli alle grandi catene private? Perché questa ricchezza che potrebbe recuperare lo Stato invece di lasciarla ai privati non può essere ridistribuita meglio invece che lasciare miliardi e miliardi nelle mani di pochi. Il piccolo Stato, gli Stati, insomma. E' chiaro che un progetto che riguarda l'intero pianeta non può essere che preso in mano dall'insieme degli Stati. E' chiaro che è un ragionamento utopico. Però si vuole un po' di utopia, non se ne uscirà altrimenti, insomma. O questo evento, pandemia, che riguarda tutto il mondo contemporaneamente, no? Mette tutto il mondo nel suo insieme di fronte a un suo problema che è generale e che riguarda appunto il mondo nel suo insieme oppure rischiamo, come dicono molti, se continuiamo a svilupparsi in un determinato modo rischiamo la catastrofe. E qui ci sono studi, insomma. Andate a Telmo Pievani, leggete invece delle catastrofe di Giulietto Chiesa, insomma, che si rifà ad altri studi, insomma, di gruppi scientifici, di riviste internazionali. Non lo sto a dire qui. Allora, la mia visione è che siamo di fronte a un momento critico, insomma, che probabilmente supereremo questa fase del Covid, insomma. Ma il problema non è tanto quello di superare questa fase del Covid pagando un prezzo che staremo a vedere quale sarà. E questo prezzo dipenderà dai nostri comportamenti e questi comportamenti nostri attualmente sono molto contradditori. Ma lo supereremo. È molto probabile. Ma è come riusciamo ad interpretare questo campanello d'allarme, che è un campanello d'allarme che si inserisce in una situazione molto più generale. È un segnale di pericolo. È una sirena che gli dice guardate, non potete più continuare così. E questo è un avviso molto forte. Riguarda tutto il mondo nel suo insieme che si accorzi di essere nel suo insieme. fragile. È una prima fragilità che viene a galla. Forse non è la prima, ma è una fragilità che si fa sentire in modo globale. rispetto a questa fragilità cosa farete? Volete e riprenderete tutto come prima? Riprenderete a farvi concorrenza tra voi? Riprenderete a vedere chi produce di più? Chi inquina meglio? Riprenderete le vostre crociere? Riprenderete i vostri viaggi? Riprenderete le vostre cose? Bene, insomma, ne pagherete un prezzo ancora più duro, ma non fra molto tempo. Fra poco siete in grado di cambiare, siete in grado di rinunciare a molto, parte molto del benessere che vi siete costruiti, ma molto del benessere materiale, a molto di quel benessere che richiede un prezzo, che fa pagare poi il prezzo alla natura, che fa pagare il prezzo all'ambiente. Siete capaci di rivedere questo modo di vivere? Siete capaci di capire quello che è indispensabile, quello che vi fa essere più felizi nella vita e di rinunciare a quello che invece è superfluo e che non vi rende più felizi? Siete capaci di fare questo? Siete capaci di rispettare più, di più, il luogo dove vivete? Di costruirsi sopra di meno, di cementificarlo di meno, di avere più amore per gli alberi, gli animali, le piante? Insomma, siete capaci di rivedere, di puntare tutte le vostre energie sul trovare un modo di vivere meglio nell'equilibrio con la natura e quindi anche con voi stessi? Ecco, se sarete capaci di fare questo, forse i vostri figli avranno una possibilità di futuro. Se non siete capaci di fare questo, supererete magari anche il Covid, ma il futuro non c'è, non ce l'avrete. Questo è un segnale a noi, insomma, alle persone intelligenti o agli enti intelligenti la capacità di cogliere come opportunità anche i segnali, anche le cose negative che si presentano nella vita. Una buona giornata.